Musica Domenica 10 luglio, Santa e Ruffina è seconda. È il 192esimo giorno dall'inizio dell'anno. Ne mancano 174 al termine. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.59. La luna si leva alle 11.57 e tramonta a mezzanotte. Il comando delle bande armate venete emana un proclama da Calalzo di Cadore per incitare alla riscossa contro gli austriaci. Ma ben pochi accorreranno e ciò irriterà non poco Garibaldi. I Veneti, infatti, avevano già avuto notizie su come i liberatori piemontesi avevano trattato le popolazioni meridionali dopo averle liberate. La Proloco di Maserata vi invita alla 43esima Fiera del Piave. Dall'8 al 12 luglio, tutte le sere le migliori orchestre, stand enogastronomico, spettacoli itineranti. Lunedì 11, storica Fiera del Bestiame e grande concerto con Ruggero dei Timidi. Chiusura con spettacolo pirotecnico. Le previsioni per domani. Sereno, poco nuvoloso, salvo modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Precipitazioni. In pianura assenti sulle zone montane, assenti al mattino. Probabilità medio-bassa di rovescio temporale al pomeriggio. Temperature in contenuto aumento nei valori massimi. Grazie per la visione.